Ma non c'è soltanto il tema irrinunciabile, come vedete, del bisogno fisiologico. Ci sono le pubblicità appuntate, i romanzi infiniti. Continua, continua, che uno la mattina si sveglia. Cosa sarà successo oggi? Accende la televisione, continua. Senza far nomi, no, no, senza far nomi, per carità. La Tim. La seguo da sempre. Sempre. Qualche mese fa ci hanno offerto la storia d'amore di Diego e Adriana. I due iniziava così. I due a tavola, la sera, sono lì a cena. Atmosfera interessante. Ci scappa sicuramente qualcosa. Dice, ma a te che ti frega? Almeno guardo. Meglio che nulla di questi tempi. Sul più bello della cenetta, lei si alza, seria. Aspetta un momento. Esce, la vediamo correre fuori dal ristorante, montare in macchina, mettere in moto e scappare. Porca così. Se non ti piace il menù, dillo. A meno che non ci sia dietro un problema di qualche impellenza d'altro tipo. Ma, insomma, lì io subito ho pensato alla signora Paffutella del giardinetto pubblico. Non sarà mica la figlia questa della Tim? Mi son detto. Eh, certe cose sono anche ereditarie, ragazzi. Pah. Comunque sia, ci sono i bagni nei ristoranti. Dove va? A meno che non stia cercando il cespuglio materno. Romantica. Scappa via e manda a lui, poi si capisce finalmente, un sms con tanto di foto che lui riceve dal tavolo del ristorante. Di lì, accendice la foto di lei. Sorride bella. Se mi prendi ti sposo. Si illumina anche lui. E le corre dietro. Ma, voglio dire, se voi andate a cena una sera con una persona che non conoscete, uomo, donna, che sia, e a metà questa persona vi dice scusa un attimo, va fuori e vi manda un sms. E se mi prendi ti sposo? Ci va. Ho cenato con un cretino. Meglio averlo saputo prima che dopo. Un caffè e il conto, grazie. Chiuso. No. No, no, no. Lui felice, divertito, contento come una pasqua, la rincorre con un'altra macchina. A un certo punto si cambia la scena, la ritrova al mare. Mentre la sta raggiungendo si vede che lei è imbrigliata in un aquilone e si solleva in aria con l'aquilone tirato da un motoscafo. Cosa si inventa la gente pur di rompere i coglioni al prossimo? E gli scappa per un pelo! E lui lei segue con una moto d'acqua. Monta, va sul mare e la trova su una piattaforma in mezzo al mare. E lei lo guarda da lontano, capisce, gli manda un sms e lui, vediamoci sotto, dove cazzo sotto? In acqua. Sott'acqua li vedi che si avvicinano nuotando e si baciano. Vai, finalmente si tromba, uno pensa. No, no, no! Lei gli fa aspetta una... Non so come faccia a dirlo tutta la... Un momento! Un momento! Un momento! Sale in superficie, ragazzi, giuro! Gli frega la moto d'acqua e scappa e gli manda un sms e se mi prendi ti sposo. No! Se ti prendo ti faccio un culo, perciò. E la miseria! E non è finita qua. Viaggiando trovano in mezzo a una zona desertica, saranno, non lo so, una prateria sconfinata in America Latina, non lo so. Vedono una chiesetta molto carina, piccola, nel nulla. Cioè, lei, sposiamoci qui. E lui, ma come? E gli amici? E gli si mandano un sms. Cioè, ti dipingono, ti propongono un mondo di coglioni che passano il tempo mandandosi gli sms e facendo caccia al tesoro. Ti immagini gli amici dall'Italia che devono andare in quel posto in culo al mondo? Gente che perde il lavoro, si licenzia, apre debiti in banca, famiglie distrutte, non andare, devo andare, non andare, non mi troverai, vaffanculo, devo andare, tra! Arrivano lì in chiesa in cento, in cento dall'Italia in chiesa. Trepidante sarà finita sta storia. Tutti con i telefonini se vi prendi di sposo siamo qui, oggi sposi, Diego e Adriana, oggi sposi, e tu vuoi Adriana prendere in marito, sbagliato, il più presente Diego e lei felice di fronte al prete in chiesa? Sì, lo voglio, e tu Diego vuoi prendere in moglie la più presente Adriana? Aspetta un momento. Esce, monta in macchina atleticamente e scappa e mandano sms a lei se mi prendi ti sposo. Lei lo vede in chiesa davanti all'altare e ride felice, divertita. A quel punto gli amici in 50 prendono lei in chiesa e le fanno la festa, gli altri raggiungono lui e lo inchiappettano in macchina. Chiuso! Chiuso! Storia finita! Grazie! 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 Grazie!